buongiorno ci troviamo all'evento cresco ho appena finito di allestire questo è il banco del mio mondo creativo tante decorazioni le calamite le campanelle di pasqua di centrotavola gli altri espositori si stanno preparando è un evento molto grande qui sarà il palco dove i bimbi giocheranno e questo è il percorso per far imparare ai bimbi i diritti che loro hanno è un evento molto tempo e questo è il percorso quindi il diritto al benessere a vivere con i propri genitori il diritto al gioco e il diritto alla sicurezza non solo smartphone qui si farà l'incontro con i bambini per spiegargli come gestire un amichetto bullo e va bene oggi sono qui il diritto alla salute a dopo